Facevo un po' di zapping l'altro giorno su YouTube, mi capita un video di Andrew Tate, ok? Non mi sono mai messo ad ascoltarlo in modo troppo approfondito, per chi non lo conoscesse Andrew Tate è un personaggio che è saltato alla ribalta delle cronache per essere stato praticamente bannato in contemporanea da tutti i principali social del mondo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, in contemporanea TikTok sparito dal processore di pagamento, è stato praticamente cancellato dalla faccia della terra digitale in un attimo perché è accusato di essere, di divulgare, di promuovere, di fomentare concetti che potessero in qualche modo portare alla violenza sulle donne, alla violenza in generale, di essere comunque una persona che non divulgava contenuti, diciamo in qualche modo, friendly per questo tipo di piattaforme. Posso essere d'accordo? Non voglio essere qui a parlare di Andrew Tate, non mi interessa. Quello che mi interessa è il concetto che ho sentito in questo breve video che condivido al 100%, cioè che se nella vita vuoi avere successo, se nella vita vuoi fare qualcosa di straordinario, cioè staccarti dall'ordinario. Straordinario non significa dar retta ai messaggi che passano online tutti i giorni, avere 25 Lamborghini, 87 Ville, piscine, tutte queste minchiate, ma significa fare qualcosa al di fuori dell'ordinario, ok? Essere nella vita, per la maggior parte delle persone, guarda di intorno, le persone che frequenti, insomma, com'è costruita la società, ok? Per la maggior parte delle persone l'ordinario, quello che bisogna fare nella vita, è sostanzialmente fare qualcosa che non ci piace per tutta la vita, fare un lavoro che non ci piace per tutta la vita, essere sostanzialmente infelici e scontenti di quello che facciamo ogni singolo giorno, già il cercare di alzare la testa e uscire fuori da questo schema e cercare invece di costruire qualcosa che in qualche modo possa farti star bene, essere felice di quello che fai, è straordinario, già solo questo, ma se vuoi arrivarci devi farti il culo, non se ne esce. In realtà ci sono tutta una serie di presupposti per poter arrivare a fare qualcosa di straordinario, ma il farti il culo è la prima cosa, ok? La maggior parte delle persone, e questa è una cosa che mi fa uscire di senno, continua a inseguire questo voler essere straordinari, quindi voler uscire fuori dall'ordinario attraverso metodi veloci, senza impegno, senza sbattimento, ma di per sé proprio il voler avere qualcosa di straordinario, senza fare qualcosa di straordinario, che già di per sé lo è, ossia uscire dall'ordinario, non funziona, ok? E la prima cosa che devi fare è iniziare a farti il culo, ok? Vuoi arrivare ad un obiettivo? Inizia a lavorare seriamente, seriamente per arrivarci, perché il talento non basta, assolutamente non basta. Per esempio, ti faccio un esempio banalissimo di un documentario che ho visto un po' di tempo fa, che si chiama The Redeemed Team. Parla di pallacanestro, parla del team USA di pallacanestro, ok? Il titolo è un rimando al Dream Team, ossia il team dove c'era Michael Jordan, Magic Johnson, insomma un team pazzesco, incredibile, che stravinse le Olimpiadi di Barcellona, con delle prestazioni fuori dall'ordinario, e questo The Redeemed Team invece non è il team del sogno, ma è il team della redenzione, perché? Perché gli Stati Uniti, pur essendo i più forti nella pallacanestro, venivano da una serie di sconfitte brucianti, anno dopo anno, competizione dopo competizione, e non riuscivano a spiegarsi perché. Avevano i migliori giocatori al mondo, ok? I giocatori più forti, più talentuosi, più fisicamente prestanti del mondo, eppure perdevano costantemente. Questo perché? Perché quei giocatori prendevano l'andare a fare queste competizioni con la nazionale come un gioco, non andavano a farsi il culo, non andavano con il giusto spirito, con il giusto approccio, ok? E se tu puoi essere forte quanto ti pare, ma se hai dall'altra parte qualcuno che si fa il culo e che va con il giusto approccio, perdi. Cosa hanno fatto? Hanno fatto la seconda cosa che ti consiglio di fare per poter arrivare ad avere risultati straordinari nella vita in qualsiasi cosa fai. hanno creato un contesto di qualità, un contesto potenziante. Come l'hanno fatto? In questo caso inserendo un singolo giocatore, Kobe Bryant. Kobe Bryant è una persona che ha vissuto la sua vita sostanzialmente con l'idea di distaccarsi quanto più possibile dagli altri, come ad esempio allena svegliandosi molto prima degli altri e iniziando la giornata di allenamenti molto prima degli altri. La sua idea era, se io mi alleno 4 ore in più al giorno rispetto agli altri, svegliandomi prima, in una settimana avrò fatto un pezzettino così di distaccamento dagli altri, in un mese un pezzettino più grande, in 6 mesi avrò fatto un pezzo importante, avrò creato un distacco importante dagli altri, in un anno piuttosto che in 2, in 3 anni sarò totalmente inarrivabile. E questo è successo, è esattamente la mentalità che ha portato in quel team dove dopo gli allenamenti i giocatori andavano a ubriacarsi e lui invece alle 4 di mattina, mentre gli altri tornavano, andava ad allenarsi. È bastato vederlo una volta per gli altri per andare a conformarsi a Kobe Bryant e quindi andare tutti quanti alle 4 di mattina ad allenarsi e, indovina un po', hanno stravinto. Ok? Quindi, la prima cosa che devi fare è farti il culo, uscire dall'idea che le cose possano arrivare per grazia divina, che possano caderti dal cielo, che qualcuno possa venire a salvarti, non ti salverà nessuno. Non ti salverà nessuno. Se non prendi consapevolezza che nella vita puoi fare quello che vuoi, soprattutto oggi, nel 2022 e nei prossimi anni, con tutte le possibilità che ci sono, puoi veramente arrivare ad avere quello che vuoi in termini di risultati, ma devi farti il culo. E la seconda cosa, che forse è più importante, devi staccare i rami secchi delle relazioni che hai intorno, che cercano di portarti al suolo ogni volta che provi a spiccare il volo. E non mi veniva un esempio più chiaro di questo. Tu provi ad alzarti, provi ad uscire dalla situazione in cui tutti cercano di tenerti e, purtroppo, le persone che hai accanto ogni tanto, anzi molto spesso, tendono a riportarti in basso. Ok? Devi uscirne. E devi iniziare a circondarti di persone che invece possano aiutarti a potenziare quello che hai in testa e quello che vuoi esprimere. Perché, una cosa che dico sempre, noi siamo la media delle 4-5 persone che frequentiamo, ma non solo, non solo, siamo anche la media dei 4-5 libri che scegliamo, la media dei 4-5 video che guardiamo su YouTube, per esempio, la media delle 4-5 cose che andiamo a inserire nella nostra routine ogni giorno, ogni anno, per migliorarci. Tutto questo fa un effetto compound che ci porta a diventare eccezionali, straordinari, fare qualcosa di diverso dall'ordinario. Ed è fondamentale. E, ad esempio, esattamente il motivo per il quale ho creato la Trading Room. La Trading Room, a cosa serve la mia Trading Room? Serve a fare questo, serve a creare un contesto di assoluta qualità. Dove? Tutti quelli che entrano sono filtrati a monte, ok? A me non interessa fare entrare chiunque, perché altrimenti fare tutto un altro tipo di comunicazione, no? Come la fanno tutti. Diventa ricco in 15 minuti, in 15 secondi, con il robottino automatico. Non mi interessa quello schifo. A me interessa che chiunque entri nella mia Trading Room, perché poi devo lavorarci tutti i giorni, dal vivo, ok? Devo avere una qualità altissima, sia una persona potenzialmente, ovviamente si può sbagliare, ma potenzialmente in linea con questi principi. C'è una persona di qualità che va a portare valore aggiunto alla community. Che significa valore aggiunto? Che deve essere un super trader? No. Ma deve essere una persona che ha capito che deve farsi il culo per diventare straordinario, ok? Che deve lavorare, deve comprendere e deve darsi il tempo, soprattutto, per arrivare ai propri risultati. Questo è fondamentale. Esattamente quello che succede, poi, perché hanno la possibilità di stare accanto a me tutti i giorni e quindi vedere come quello che studiano io lo metto dal vivo davanti a loro, in pratica, e lo trasformo in idee operative. Ma quando io non ci sono più, loro possono tranquillamente tra di loro confrontarsi sicuri di avere un ambiente protetto e di qualità, dove se si confrontano con qualcuno non si stanno confrontando con il frustrato nel gruppo Facebook che non ha mai avuto risultati nella vita, nel trading, che gli dà i consigli, così, ma si stanno confrontando con qualcuno che ha il loro stesso set di principi e la loro stessa indole e soprattutto il loro stesso approccio nel voler arrivare ai risultati e quindi sanno che hanno uno scambio assolutamente di qualità che li porterà a migliorare. E questo è assolutamente fondamentale, ok? A tal proposito, ho fatto un video, per esempio, sui migliori libri del trading, lo trovo io proprio scrivendo i migliori libri sul trading, trading più academy, già mò quello che vuoi su YouTube, dove parlo esattamente di questo. Parlo di quali libri scegliere per migliorare nel tuo trading e scoprirai che non sono libri di trading, ok? Vatela a vedere perché è molto interessante. Quindi, mi raccomando, la prima cosa fondamentale da fare è sempre quella, partire dall'approccio. Un approccio volto ai risultati e quello che ha fatto, per esempio, come ti ho raccontato, Kobe Bryant in quel team è stato quello, far capire a quei ragazzi, anche se erano i più bravi del mondo, senza giusto approccio avrebbero perso, ok? Il secondo è circondati di persone che ti aiutano a potenziare te stesso e quello che sei e quello che vuoi diventare e inizi a mettere insieme anche delle abitudini che siano potenzianti in tal senso, inizi a fare delle letture potenzianti, inizi a guardare dei video di un certo tipo, piuttosto che guardare persone che parlano a caso di trading, vatti a vedere persone che possono invece realmente aiutarti a costruirti un set mentale, fisico, psicofisico che possa veramente aiutarti a diventare una persona straordinaria, quindi capace di andare oltre l'ordinario, ok? E soprattutto iscriviti al canale così sei sicuro di non perdere nessun video e soprattutto mi aiuti a diffondere una cultura nel mondo del trading e un'idea del trading totalmente differente dal schifo, passami il termine, che costantemente viene messo davanti a tutte le persone che vorrebbero in modo onesto interessarsi al trading, ma che si ritrovano sempre messaggi forbianti che effettivamente ci hanno rotto un po' le scatole. Quindi iscriviti, lascia un commento se vuoi chiedermi qualcosa, nello specifico sarò lieto di risponderti come sempre, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti!